O di là? O di là? O di là? 9 chilometri di là. Andiamo a vedere, ci prendiamo. 9 chilometri di là. No, allora, 15 chilometri di là, quindi 9 di là. Andiamo sul 9. E dopo usiamo, e dopo quando ritorniamo indietro andiamo dall'altra parte. E si è capito. 9 o 15? 9 o 15?